Contrastare la disoccupazione giovanile puntando sull'orientamento e l'alternanza scuola-lavoro è l'obiettivo di allenarsi per il futuro per il centro Italia, l'iniziativa ideata da Bosch & Rassad che coinvolgerà Teramo, Civitella, Montorio ed Ascoli. Come ci si allena per il futuro attraverso questo progetto? Con molto impegno, con molto sacrificio e soprattutto con molto studio. Credo che questi siano i tre ingredienti fondamentali affinché un giovane ragazzo e ragazza possano raggiungere in tempi rapidi obiettivi specifici. Il gruppo di testimonial sportivi del progetto è partito da Teramo con l'incontro alle scuole della Molinari, all'alberghiero di Poppa e all'università per proseguire poi in altri comuni del cratere. Sicuramente vogliamo come Bosch andare in tutti i territori che noi hanno subito dei danni, sia materiali ma soprattutto le difficoltà che ogni giorno, in questo caso i ragazzi, gli studenti, devono affrontare sia dal punto di vista logistico. Oggi eravamo nella scuola Molinari dove hanno accorpato un paio di scuole medie e quindi c'è sicuramente un disagio logistico ma soprattutto morale. Noi vogliamo attraverso il progetto allenarsi per il futuro, sia per le scuole medie ma anche per le scuole superiori, raccontare il mondo del lavoro ma soprattutto attraverso la metafora dello sport, quelle che possono essere le caratteristiche principali tra le quali la resilienza, resilienza che sta per affrontare tutte le difficoltà, il terremoto a noi ne ha portate parecchio e poi avere sempre quel sogno che nonostante le difficoltà deve essere allenato e poi sicuramente raggiunto. Il progetto vede impegnata la scuderia dei campioni dello sport di allenarsi per il futuro al gran completo. Saranno loro a portare ai ragazzi dei luoghi terremotati del centro Italia il messaggio che con entusiasmo, impegno e determinazione si possono affrontare e vincere le sfide della vita. Maurizia, hai incontrato tanti ragazzi. Qual è stato il tuo messaggio? Ho incontrato un sacco di ragazzi e il mio messaggio soprattutto in questo momento è stato quello di non tirarsi indietro, di essere ancora più determinati di quello che loro possono essere.